A Favara domani mercoledì 8 marzo al castello Chiaramonte alle ore 16.30 sarà inaugurata una personale di pittura dell'artista Letizia Lomonaco intitolata il brutto anatroccolo, l'esilio e il ritorno al sé. L'iniziativa è promossa dalla Farm Cultural Park, dalla FIDAPA e dal comune di Favara. Ascoltiamo in proposito la stessa Letizia Lomonaco. Pertanto domani alla castello Chiaramonte a Favara la mostra di Letizia Lomonaco il brutto anatroccolo, l'esilio e il ritorno al sé. Qual è il contenuto dell'esposizione? Lungo quali condotte si sviluppa la narrazione in e mostra? Dunque questa mostra nasce inserita in un progetto voluto fortemente dalla FIDAPA della sezione di Favara e questo progetto si intitola La donna nell'arte. La mia personale racchiude praticamente 19 opere che sono ovviamente su varie tecniche. Si va dai disegni, si va alla pittura in olio, alle tecniche miste e via discorrendo. E sono ovviamente 19 opere selezionate proprio sulla base della tematica della donna. Ovviamente è una mostra che verrà inaugurata proprio l'8 marzo. In occasione di questa celebrazione verrà inaugurata dalla dottoressa Florinda Saieva che come penso sia risaputo è la fondatrice assieme ad Andrea Bartoli del polo culturale della FARM che credo sia assolutamente superfluo dire ulteriormente dal momento che è una realtà abbastanza conosciuta. Per quanto riguarda le tematiche, intanto partiamo un po' dal titolo. Il titolo prende le mosse da una antica fiabba di Andersen. Questa fiabba in realtà non ha un riferimento femminile in modo particolare né ha un riferimento maschile. Diciamo che il riferimento è soprattutto dato dalla diversità. Ovvero è una fiabba che parte da una diversità che se in un primo momento viene assolutamente stigmatizzata successivamente si rivela come bellezza e quindi come valore. Questo in maniera sintetica. Poi approfondirò questa tematica successivamente in un video che sarà visibile sul mio sito che è www.letizialomonaco.com e sarà visibile tra una quindicina di giorni. Mi premeva dire che la mostra comunque sarà visibile negli orari, nei giorni di apertura del castello di Chiaramonte di Favara fino al 15 di marzo.